La due diligence fiscale è un processo di verifica cruciale durante le operazioni di MMA, fusioni e acquisizioni, che serve a identificare eventuali rischi fiscali nascosti nell'azienda Target. Questa pratica permette all'acquirente di comprendere meglio le passività fiscali potenziali e le possibili esposizioni, assicurando una valutazione accurata del valore dell'azienda. La due diligence fiscale include l'analisi di dichiarazioni dei redditi passate, contenziosi fiscali in corso, conformità con le normative locali e internazionali e la verifica di eventuali incentivi fiscali. È fondamentale per stabilire la corretta struttura dell'operazione e per negoziare garanzie o riduzioni di prezzo. Inoltre, può rivelare opportunità di pianificazione fiscale post-acquisizione.